SIGLA Sono in pensione. In tal caso, che si beve? Lo stesso per la mia figlioccia. Papà diceva che avevi trovato qualcosa su un treno durante la guerra. Un quadrante che avrebbe cambiato il corso della storia. Perché insegui ciò che ha condotto tuo padre alla follia? Non muoverti. Dobbiamo andare via. Fermi! Scusa. Ellen! Professor Jones, trovatelo. Hitler ha spagliato. E con il quadrante correggio rova i suoi oroni. Tu l'hai rubato. E poi l'hai rubato tu. E poi l'ho rubato io. Si chiama capitalismo. Di là! Allacciate le cinture. Potrebbe esserci torpolenza. Hai fatto di tutto. Hai commesso errori. E adesso il trionfo finale. Indy! Fagli vedere chi sei, Indiana Jones! Nella vita ho visto diverse cose. Mi hanno torturato con il voodoo. Sparato nove volte. Una volta mi ha sparato anche tuo padre. Scusa! Ma questo l'ho cercato per tutta la vita.